Ciao a tutti amici di Vanilla. Lo slogan della scuola era chiaro e conciso. Il nostro obiettivo alla Carlyle Indian Industrial School è prepararvi ad assumere un ruolo idoneo nel mondo dell'uomo bianco. Con queste parole la Carlyle Indian School, fondata nel 1879 dal colonnello Richard Henry Pratt, sotto l'autorità del governo federale degli Stati Uniti, dichiarava esplicitamente il proprio intento di cambiare radicalmente usi, costumi e cultura dei giovani nativi americani. Se formalmente veniva sostenuta l'uguaglianza razziale, l'idea stessa del termine uguaglianza era da rapportare al XIX secolo. L'obiettivo era dimostrare che i nativi erano uguali ai bianchi semplicemente rendendoli il più occidentali possibile. Il diktat era Kill the Indian, save the man. Uccidi l'indiano, salva l'uomo. Agli studenti veniva proibito di parlare la propria lingua, avevano i capelli tagliati ed erano vestiti con cravate e abiti tipici della moda dell'epoca. Una volta entrati nella scuola non tornavano nelle proprie famiglie per diversi anni e nell'istituto venivano loro insegnate arti e mestieri come il panettiere o il fabbro, rendendoli pronti al mondo del lavoro statunitense. Nonostante queste premesse, molti studenti ricordano l'esperienza della scuola del colonnello Pratt in modo positivo, descrivendolo come un bravuomo, padre dell'educazione indiana. Prima di vedere le fotografie di quel delicato periodo storico in cui moltissimi nativi americani vennero convertiti, se così si può dire al modello di vita occidentale, chiedo ai tanti spettatori non iscritti di iscriversi al canale di Vanilla e sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale. Grazie mille a tutti. Poiché la missione di Pratt era quella di dimostrare che i nativi americani avevano un posto preciso in un mondo che stava distruggendo le loro case e la loro cultura, si avvalse della fotografia per dimostrare il miglioramento del prima e dopo degli studenti entrati nella sua scuola. La serie comincia con Tom Torlino perché i suoi ritratti sono due delle immagini prima e dopo più conosciute. Scappate dal fotografo John Choate nel suo studio a Carlyle nel 1882, questa foto prima è stata scattata quando Tom è arrivato a scuola. Tre anni dopo, nel 1885, si nota quanto la pelle di Tom appaia più chiara. Probabilmente il fotografo illuminò diversamente il soggetto per renderlo il più bianco possibile, a dimostrazione del grande cambiamento che offriva la scuola ai suoi studenti. Un'immagine del 1882 mostra 12 studenti navaco, fra cui Tom Torlino seduto in prima fila, in basso a sinistra, e il colonnello Pratt seduto sul palco. In questa fotografia vediamo un gruppo di navaco che entrò a Carlyle il 21 ottobre del 1882 e venne fotografato dopo un po' di tempo a scuola, così dice la deascalia. Ancora una volta c'è Tom Torlino, seduto nella fila centrale, terzo da sinistra. Questa è un'altra foto in studio che mostra tre ragazzi della Nazione Sioux. Richard Rett, l'archivista specializzato in fotografia della Cumberland County Historical Society, ha spiegato che durante questi servizi fotografici in studio, Schott aveva portata di mano oggetti di scena e costumi, con cui caratterizzava in modo marcato le caratteristiche estetiche del vestiario tipico della cultura degli studenti. Non si sa quanto accurata fosse la ricostruzione, ma la didascalia della fotografia riporta tre studenti Sioux appena arrivati alla Carlyle Indian School nel 1883. Nella fotografia successiva vediamo gli stessi tre ragazzi dopo tre anni a Carlyle con l'uniforme da cadetti. Questa fotografia mostra quattro bambini Pueblo, uno dei pochi ritratti in studio che unisce femmine e maschi. Fu scattata nel 1880, appena un anno dopo l'apertura della scuola. Nell'immagine seguente si nota il cambiamento, con i ragazzi vestiti con l'uniforme e con i capelli tagliati. In questa fotografia possiamo vedere un gruppo di Chirikawa Pash dopo essere arrivati dal campo di prigionia di Fort Merion in Florida. Il colonnello Pratt gestiva quella prigione prima di iniziare Carlyle. Questi erano della stessa nazione di Geronimo, a cui non era permesso tornare a casa. A Fort Merion le condizioni erano terribili e, di conseguenza, gli Apache, arrivati a Carlyle dalla Florida, erano alcuni degli studenti più ammalati dell'istituto e molti non sopravvissero. Il cimitero della scuola ospita un gran numero di studenti Apache. Nell'immagine successiva vi vediamo qualche mese dopo, nel marzo del 1887. In un'altra celebre fotografia vediamo White Buffalo. Il ragazzo fu uno studente di Carlyle dal 1881 al 1884. La fotografia venne scattata nel 1881, quando White Buffalo aveva 18 anni, e mostrava una prematura carizie. Qualche tempo dopo, Buffalo Bianco, per tradurlo in italiano, mostra i capelli tagliati e con la riga, una giacca e una cravatta. Non sappiamo cosa provassero questi ragazzi, la cui cultura venne distrutta dall'avidità dell'uomo bianco. Probabilmente, mi viene da pensare, si sentivano più liberi a cacciare i bufali nel mezzo delle praterie, che a portare una giacca e una cravatta dentro una scuola.